Da sempre alle Olimpiadi le nazioni partecipanti, in particolare quelle dei regimi meno democratici, approfittano della vetrina mediatica. Stavolta un paese ufficialmente stromesso dai giochi, la Russia, squalificata per due anni da tutte le manifestazioni sportive dopo lo scandalo del doping del 2019, presenta atleti sotto la sigla del Comitato Olimpico Nazionale, ROC, e senza bandiere e inno. Ma i dirigenti russi, con un espediente, hanno invaso di bandiere russe il villaggio e i giochi. Le hanno infatti ripresentate in varie versioni su magliette e tute di atleti e di dirigenti. E la cosa fa molto discutere in questa prima settimana di giochi di Tokyo 2020. La scelta dei russi, della pallavolo, di indossare una maglia con i colori bianco, rosso e blu, nell'ordine in cui compaiono sulla bandiera russa, ha spinto il giornale inglese Telegraph a scrivere che in Musca si fanno beffe dei divieti della UADA, l'agenzia mondiale antidoping, che è il braccio operativo del CIO nel settore. Sì, i russi ci sono, anche se non possiamo chiamarli così. Peraltro la divisa da pallavolo, aggiunge il quotidiano britannico, è meno provocante della polo che indossano i dirigenti a Tokyo. Hanno una bandiera russa in diagonale, inconfondibile sul davanti. La linea è stata passata dalla squadra di nuoto artistico, alla quale è stato negato il permesso di indossare un costume che aveva il disegno di un orso. Da Tokyo, Tullio Giannotti.